Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda delle serate curate e acquiscate per Angelica. Una serata che poi proseguirà domani con il grande esame dell'orchestra Angelica e poi anche un supplemento importante di Cantri con il progetto P50 di una serata per orchestra che sarà domenica al teatro Manzoni, a questo apposito vi ricordo di conservare i vigneti stasera o nei vigneti scorsi di Angelica perché serve per avere uno sconto del 20% sul questo vigneto del concerto Manzoni. Questa serata si divide in due parti, avverrà il voleto di Shenmue Hirsch e Kazuiza Uchihashi e poi ci sarà un intervallo in un quarto d'ora durante il quale potete approfittare del bar Hawaii Anu qui fuori e dopo il quale seguiranno Dagmar Krause, Kahneman, Peter Black, John Greens e Chris Cutler. Domani, prima del concerto serale, c'è anche un appuntamento molto simpatico secondo noi con il piccolo coro Angelico al quarto anno dell'attività, che è un coro perché mi avesse, ho avuto occasione di vederlo esibirsi molto particolare diciamo che non si è una cosa che vedere con il fechino d'oro con tutto rispetto c'è un interesse anche musicale abbastanza notevole non scorsi sono esibiti qui ma ovviamente domani ci sono le prove per il concerto serale quindi saranno al Museo della Musica anche le ore 17 e anche adesso del Turito. Mi ricordo a me che fuori c'è il banco dei dischi con 5 cd più recenti pubblicati da Angelica sono i lavori parecchio interessanti, probabilmente tra i migliori e oltre a trentina pubblicati da Angelica in questi anni e ci sono parecchi cd portati sia da Shelly Hirsch che da Charles Curtis, John Greens, il libro di Black Valley Greens e altre cose. Quindi buon ascolto per la prima parte con Shelly Hirsch e Kazuisa Urushika. Grazie. Una sera, un sere, serrato, serrato, Sera. 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 Come on. 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 come on.